Diamo uno sguardo quest'oggi a come potrebbe iniziare la stagione autunnale. Beh, probabilmente ci sarà veramente poco di vero autunno sull'Italia perché l'alta pressione sarà sempre ben pimpante, attiva qui sull'Europa centrale e parte di Scandinavia e le perturbazioni rimarranno confinate un po' più ad ovest, tra isole britanniche e Francia, parte di penisola iberica, ma da noi quindi le correnti saranno molto miti, anticicloniche e vivremo ancora un'estate settembrina tra il 20 e il 23 settembre. Quindi temperature oltre le medie del periodo, un caldo un po' anomalo su alcune zone, ma probabilmente dopo il 23 settembre si aprirà un po' di porta atlantica con delle precipitazioni che potrebbero giungere da noi. Intanto quindi stabilità attorno al 20 e 23 con valori termici sempre molto molto miti.